PODY 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 ROVALTAX BELLA A TUTTI RAGAZI QUI E' RIKI E Oggi siamo qui con un altro episodio della nostra carriera allenatore con il Bari Ragazzi siamo in Serie A Dopo l'inizio con l'Inter io direi che può iniziare ufficialmente la nostra stagione RIKI il più ricercato lì Magari speriamo sia così E ragazzi voglio provare questo modulo Infatti l'ho chiamata come squadra esperimento Questo modulo col 4-3 falso 9 Con Piu nel ruolo fulcro della squadra Con un centrocampo che ormai conoscete I due esterni e la difesa a 4 classica Voglio provare a sfruttare gli inserimenti dei due centrocampisti Cioè Zanellato e Ivan Busellato a protezione E magari Lombardi e Piazza che accorciano E diventano anche pericolosi avanti Vediamo un po' cosa possiamo combinare con questa formazione Affrontiamo l'Atalanta Quindi una squadra molto molto valida L'unico piccolo vantaggio magari può essere che siamo in casa Quindi ragazzi io direi che Leggenda 4 minuti Nuvoloso Si va nel match San Nicola gremito ragazzi Dobbiamo assolutamente fare bene Dopo il brutto avvio con l'Inter Ma ci stava alla fine Una squadra molto molto forte Oggi affrontiamo questa Atalanta E vi faccio vedere subito subito La formazione ragazzi Allora l'Atalanta schiera Un 3-5-2 Con Fleurer e Kurtic Galano Che era nostro Paloschi Bisevic Perotti Diego Perotti a sinistra Attenzione questa non me la aspettavo Subotic in difesa Madonna ragazzi Che squadra l'Atalanta Ma noi siamo il bar Madonna che ha preso su piazza Non ci credo ragazzi Non ci credo azione stupenda della nostra Atalanta Dai Bari Della nostra Atalanta Del nostro Bari Vabbè Madonna Lombardi Ragazzi stiamo giocando benissimo Veramente il nostro Bari Si sta muovendo alla grande Manca solo il gol Quanto sacrificio di piazza ragazzi Questo è importante Per il nostro modulo Il sacrificio di piazza Dei due esterni Perché altrimenti ci troviamo scoperti No 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 Non tirare Mamma mia Meno male E arriva l'1-0 ragazzi Ci castiga Paloschi Dopo un bel passaggio di Galano Purtroppo Sto giocando molto concentrato Ragazzi Ma guardate che taglio Lì ha sbagliato forse Il difensore centrale Stavamo giocando Alla grandissima Veramente Arriva l'1-0 Non ci credo Che cosa aveva fatto piazza Vabbè siamo anche sfortunati ragazzi Dopo una bella giocata di piazza Entra pure il Papu Gomez Alla grande Dopo quella parata Che ci vogliamo fare ragazzi La squadra io la sto vedendo Veramente bene Però Manca Come ho detto prima Solamente il gol Ragazzi Proviamo a cambiare Qualcosina Lombardi L'ho visto Un pochettino spento Metterei Martigno Che può rientrare col sinistro Diamo un po' di fisicità Con Cherry Lì davanti Magari Lo spostiamo Un po' qui Centrale Un po' più A fare la punta fissa Perché ragazzi Io onestamente Vedo il mio Bari Che sta giocando Veramente bene Proviamo così Nooo Altra grande azione Ragazzi Ma Niente da fare Non riusciamo a metterla dentro Per il momento Parata grandiosa Di Mikai Ragazzi Praticamente L'Atalanta Pino ad ora Ha avuto due sole sostituzioni I cambi me li fanno All'ottantottesimo Vabbè Prevedibile Calcio d'angolo Ok Usciamo bene Peccato ragazzi Probabilmente finirà Con una sconfitta Questa partita Peccato perché Abbiamo giocato solamente noi Abbiamo avuto tante occasioni Io non posso Giudicare male La prova Del mio Bari Sinceramente Perché comunque Abbiamo creato tantissimo Ci siamo mossi Veramente Alla grande Abbiamo portato Tanti pericoli E finisce il match Ragazzi E pazienza Iniziamo con due sconfitte Però Io penso che È solo un caso Queste due sconfitte Vedete Alla fine Comunque Ce la siamo giocati Alla pari Se non di più Quindi penso Che comunque Possiamo Pensare Di salvarci Con tranquillità Questa stagione Scende un po' L'overall Ma questo È chiarissimo Facciamo Gli allenamenti Sperando salga Qualcuno No Non sale nessuno Vediamo che dicono Le quattro email Ok Sono arrivati Informazioni Per i giocatori Che ho chiesto Praticamente Ad inizio Campionato Vabbè Allora Ravel Morrison Costa 9 milioni E 500 mila Poi Insigne Questo qui Non è male Questo qui del Napoli Il fratello di Insigne Pereira Anche lui Molto buono Bastian Klaivert Non seguito Diciamo ci sono Buoni giocatori Ragazzi Che avevo Cercato di seguire Però ovviamente Nel mercato Però sapete Che si può fare mercato Quando si vuole Su questo FIFA Allora Il Perugia Vuole in prestito Guidi Ragazzi Io accetto Perché il giocatore Della primavera Secondo me Può comunque Giocare molto di più Di quanto lo Impiego io Guardate Quanti altri giocatori Ragazzi Arrivano I resoconti Cioè io Io li ho chiesti Prima Andersen Per esempio Perfetto Era un perfetto Giocatore Che costa anche poco E vabbè Quindi vabbè Ce li calcoliamo Poi per le prossime Stagioni Allora Prossimo mercato Aglietti Anche non era proprio Da buttare Cioè io Al Mualad Fatemi vedere Quante Madonna Che bel giocatore Anche questo qui Poi Federico Ricci 73 24 anni Ragazzi Io ho scelto Tutti i giocatori Che erano perfetti E vabbè Poi vediamo Vabbè Candellone Non l'avrei preso Guidi Ok Si aggregherà Perugia Nella prossima Finesta di mercato Andrea Anzi Quanto c'ha Di overall 69 Anche lui Non è proprio Da buttare Ed era Vi faccio vedere Un po' di giocatori A questo punto Ed era No Meglio non puntarci Andrea Conti Ragazzi Volevo provare a prendere Ma costa Un casino Confente Eh Questo può crescere Veramente tanto Anno scorso Cresceva tanto Castrovelli Un buon 67 Anche lui Federico Bonazzoni Parte da un 65 No Allora Non è granché E Nicolo Barrella Ragazzi Quanto mi piace Questo giocatore Proverò sicuramente A provare a prenderlo Poi Fritzon No Parte troppo basso Pensavo meglio E vediamo Sarfo Eh Sarfo Gran bel giocatore Gran bel giocatore Quindi ragazzi Questi erano i giocatori Che alla fine Volevo puntare Però vabbè Diciamo che Comunque Li posso Tenere a mente Per le prossime Finestre di mercato Ok ragazzi Adesso affrontiamo La Cremonese Squadra che È salita insieme A noi L'anno scorso Ci siamo Divisi un po' Il campionato Perché loro erano Secondi E noi primi Io voglio Continuare con questo Modo Perché comunque Mi sono divertito A giocarci È mancato solamente Il gol Ormai Ve l'ho già detto La formazione Io non la toccherei Stanno tutti in forma Anzi Metterei Kozak Al posto di Più Lo voglio usare Come Giocatore Per far salire la squadra E far inserire Poi i centrocampisti E poi metterei Magari un martigno Quindi questa è la formazione Leggenda 4 minuti Nuvoloso Si va nel match Dai ragazzi Dobbiamo Assolutamente Portarci a casa I tre punti Anche se siamo fuori casa Qui non voglio scuse Dobbiamo giocare bene E convincere Per dare una gioia Ai nostri tifosi Dai Nooo Bella azione Anche qui ragazzi Quindi Kozak fa Da sponda E si inseriscono I centrocampisti Qui vabbè Rimpallo Assoluto Sulla gamba Del difensore Vediamo questo calcio D'angolo Magari lo sfruttiamo Bene Vai di testa No non ci arriva Nessuno Azione ancora buona Però Anderson Zanellato Vede il pallone dentro Vai Kozak Col destro La parata di Ucani No 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 Il 45esimo Butta la palla Butta la palla Meno male Meno male Perché Sapete meglio di me Che il 45esimo È pericolosissimo Vediamo se ci va a fare L'ultima azione Vai Martigno Vai Martigno Dagli la Kozak 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 E mettilo sto fisico Dai lo ferma Marconi Fine primo tempo ragazzi Dove non mi ha convinto Pienamente la squadra Se non in due occasioni Ma niente di che Però Va detto che non abbiamo Neanche subito Più di tanto Io direi ragazzi Che Kozak Lo cambio con Cherry Magari Cherry Mi dà più Fisicità Ancora di più Di Kozak E poi ragazzi Vorrei provare A mettere I terzini Un pochettino Più avanti Veramente Giochiamo un po' Molto molto offensivi I terzini più avanti Per vedere Se sfruttiamo di più Le sovrapposizioni No Ivan Che ti sei mangiato Oh non prendiamo la porta Ragazzi Neanche per scambio Per il momento Vabbè ma Che culo sto portiere Quanto lo odio Vai Mettila dentro Cherry No Vabbè ma Questi manco Con le mani Segnano Grande Bussellato Fallo correre Fallo correre Vai a te Boer Corre a te Boer Sulla fascia Vai a te Boer Come se non ci fosse un domani A te Boer Mettila dentro Madonna Che seghe Vai Cherry Eccolo Piazza 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 può rientrare Naggia No Che prateria qua Aia Aia Vai si chiama pure stanco Dimmi che sbaglia Mamma mia Mikai Vai Cherry Cherry Madonna Quanto è scarso Cherry Devo mettere No 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 Esci Mikai Mamma santa Bellissima Bellissima Vai Cherry Rimettila Mettila Mennaggia Eh Manca pochissimo E ormai E ormai Probabilmente Strapperemo Anzi Strapperanno Il pareggio Visto che Praticamente Abbiamo giocato Una porta sola No No Ivan Non perdere Non perdere questi palloni Perci gli allenamenti Almeno L'overroll È salito Dai Un punto In serie A Già È positivo Vediamo Vediamo Non sale nessuno No Direi di no E io direi di simularci La prossima Che dovrebbe essere in casa Perlomeno spero Vediamo Sì Petriccione Non potevo farti giocare Perché con la cremonese Volevo vincere Ma Purtroppo Non ci siamo riusciti Ecco La Juve La Juve Inutile che la gioco Ragazzi Perché Tanto Già so che la perdo Tanto vale simularcela Con calma Vediamo Ufficio Perché dice che ci sono messaggi Ah la conferenza stampa Ok Quindi simuliamoci questa Vediamo Con la Juve Immaginate se Strappiamo un pareggio Vabbè ma penso sia quasi impossibile Vediamo Formazione titolare Buffon Coleman Rugani Caldara Subito di bala 1 a 0 Spinazzola Che si è infortunato Quindi perfetto Mannaggia Già sotto al settimo minuto Ti prego Ti prego Pareggiamo Non so come Ma pareggiamo Entra Kozak Bakambu Si è pure presa La Juve Ecco Di bala doppietta De lì è infortunato Proprio Una sciagura E finisce 2 a 0 Per la Juve Vabbè Era prevedibile Allora Vediamoci la classifica Praticamente Stiamo andando malissimo Però vai Dai Noi dobbiamo puntare Alla salvezza Quest'anno Anche se la dirigenza Dice metà classifica Ma Non so come dobbiamo fare Perché Dobbiamo puntellare la squadra Ancora Giocatore infortunato 6 settimane No Maledizione 6 settimane No Vabbè Facciamo giocare Cassani Dov'è Eccolo qua E Delia Ce lo portiamo In panchina Portiamo Agi Ok Quindi ragazzi Direi che Questo episodio Possiamo chiuderlo Qui Facciamo però Un attimo Gli allenamenti Sperando che Qualcuno salga Dai 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 Ti prego Anderson Anderson e Ferrari Eppure Piu Ok Chissà di buon aspicio Per il prossimo episodio Dai Tutti che si avvicinano A 70 Quindi ragazzi Direi che Possiamo chiudere qui Prossimo episodio Big match Con la Roma Dobbiamo rinascere Assolutamente Ok Scalera Lo diamo in prestito Si dai Ci sta Insieme a Guidi E poi Qual è l'altro in me Conferenza stampa Ok Che possiamo togliere Quindi ragazzi Mi raccomando Tanti mi piace Di supporto Tante iscrizioni Al canale Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao ragazzi